Questo semplice esperimento ci fa velocemente visualizzare la fisica che si cela dietro la formazione del vento che nelle giornate di mare a volte ci ristora a volte ci tormenta letteralmente guardate i miei capelli per rendervene conto oggi ma quanta fisica c'è dietro il vento i raggi del sole riscaldano la superficie terrestre questo avviene in maniera non uniforme così si formano zone di alta pressione zone di bassa pressione e la fluido dinamica ci insegna che l'aria si muove da dove la pressione più alta a dove la pressione più bassa ed ecco generato il vento e l'esperimento del palloncino dimostra proprio questo la pressione dell'aria all'interno è maggiore che all'esterno nel momento in cui io apro il collo si genera un passaggio continuo d'aria perché la pressione si deve riequilibrare l'energia cinetica del vento fa girare la turbina della paleolica che collegata ad un alternatore la converte in energia elettrica